Gli mancavano due esami per diventare medico, brillante studente all'Università di Pavia, appassionato di montagna, preparato e ben attrezzato. Conosceva la zona, la frequentava fin da piccolo, ci veniva da anni con la famiglia. Cosa si è accaduto? È ancora tutto da chiarire. Una scivolata fatale, forse in uno dei punti meno esposti al sole dove il sentiero resta ghiacciato. L'ennesima vittima della montagna è un ragazzo di 25 anni di Milano, Giovanni Borsatti, classe 1997, residente in via Paolo Sarpi, casa in Valsassina, a Moggio, dove era salito per le vacanze pasquali. A lanciare l'allarme sono stati i genitori preoccupati per il mancato rientro. Le ricerche, iniziate mercoledì sera poco dopo le 21, si sono concluse nel più tragico dei modi. Il corpo è stato trovato nel cuore della notte lungo il sentiero che collega i piani di Bobbio ad Artavaggio, morto dopo un volo di diversi metri. Non appena giunta la richiesta d'aiuto dei familiari, la centrale ha attivato il soccorso alpino, stazione di Valsassina e Valvarrone, della diciannovesima delegazione lariana, i carabinieri d'introbio, vigili del fuoco e protezione civile. Sono partiti 25 tecnici del soccorso alpino saliti a piedi e con i mezzi fuoristrada, verso Artavaggio, per battere i sentieri principali. In volo da Sondrio si è alzato l'elicottero di Areu, che ha sorvolato la zona di Campelli e del monte Sodadura. Intorno alle due di notte, a circa 1800 metri di quota, hanno trovato lo zaino di Borsatti. Il suo corpo era un centinaio di metri sopra, caduto dall'alto, in una zona molto impervia. Nulla hanno potuto i soccorritori se non recuperare la salma, con l'ausilio di un secondo elicottero. L'incidente è avvenuto lungo il sentiero degli stradini, in parte attrezzato nei punti più esposti, con catene e corde. Erano già state definite anche le fasi di ricerca che si sarebbero dovute svolgere giovedì mattina, con il supporto dell'elicottero della Guardia di Finanza. Il dispositivo IMSI Catcher a bordo consente infatti di rintracciare in breve il segnale del telefonino. Purtroppo non è servito.